Sono 47 gli oli extravergini di oliva, ambasciatori della Toscana nel mondo, scelti fra i 70 campioni presentati alla selezione 2019 e presentati ufficialmente nella sede di Toscana Promozione Turistica a Villa Fabricotti a Firenze. Gli oli scelti provengono da tutte le dop toscane, 10 per il Chianti Classico, 3 per Terre di Siena, 1 per Seggiano, 1 per Luca e 32 per l'IGP Toscano. 14 le menzioni speciali. La selezione è stata promossa dalla Regione Toscana insieme a Promo Firenze, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze. Tantissime aziende si stanno affacciando ai mercati direttamente, questo è un segnale molto positivo, c'è grande entusiasmo e la Toscana evoca nell'immaginario collettivo sicuramente la qualità, la bellezza, il territorio e l'olio li rappresenta un po' tutti. Con la selezione degli oli extravergini di oliva che è espressione di un patrimonio olivicolo regionale di 15 milioni di piante e 50 mila aziende produttrici è stato pubblicato anche il catalogo in italiano e inglese che racchiude le schede di ogni singolo olio e alla fine degustazione degli oli scelti con il pane offerto dal consorzio del pane toscano DOP.